Tra i tanti tatuaggi che ho fatto nel corso della mia carriera ce ne sono alcuni che hanno avuto un particolare successo, condivisi sui blog, su riviste, eccetera. Alcuni poi sono, beh, non direi caduti nel dimenticatoio, però sono stati rimpiazzati da altri tatuaggi che hanno avuto un po' più successo. Ad esempio mi ricordo Medusa che mi è valso anche il premio di miglior ritrattista su True Artist, credo fosse il 2015, 2016 o giù di lì. E per un periodo ci sono state un sacco di persone che mi hanno chiesto quel tatuaggio e ovviamente io rispondevo a tutti quello che rispondo sempre. Quello è un disegno fatto apposta per un mio cliente in esclusiva e per me un tatuaggio deve essere unico per ogni persona e quindi scordatevi che vi tatuo la stessa cosa. Eventualmente se vuoi qualcosa di simile si può fare ma qualcosa di nuovo è unico. Ma il tatuaggio che ha avuto più successo in assoluto, credo a memoria, è stato Doomsday Clock che è un tatuaggio che praticamente ha dieci anni. Ma tuttora almeno minimo due o tre volte l'anno arriva qualcuno che mi chiede o quello o qualcosa di simile. E ovviamente gli faccio sempre lo stesso discorso. In questo caso il cliente è un appassionato di teschi e voleva qualcosa di simile, qualcosa di cimiteriale con tantissimi teschi. Io ovviamente gli feci lo stesso discorso parlando con lui mi disse che voleva una croce sul braccio e quindi la prima idea che mi venne fu proprio quella di questa montagna di teschi su cui stava questa croce. Ora per la parte interna in realtà non mi ricordo se è stata una mia idea, se aveva già lui in mente di mettere la morte con la falce, non me lo ricordo. Fatto sta che ci stava. È un po' disassata perché in realtà quando si pensa all'interno del braccio, a differenza dell'esterno, l'esterno braccio può anche essere un disegno tutt'uno, in linea diciamo. Mentre quando si guarda all'interno del braccio, se si guarda all'interno dell'avambraccio e all'interno del braccio noterai che sono leggermente disassati. Quindi riuscire a fare un disegno unico su quella superficie non è facile. Per questo ho pensato ad un avvallamento fra i teschi anche per dare questo senso appunto di, chiamiamola montagnetta di teschi. Qua vedi sto usando il modello che uso sempre per i teschi, forse è per quello che i miei teschi sono un po' tutti simili. Perché questo è il modello che ho, non ho una collezione di teschi. Ho questo modello e quindi uso questo. Comunque dicevo e mi sono avvalso ovviamente di questo teschio per disegnare tutti questi teschietti. E comunque dicevo appunto, non ricordo di chi fu l'idea, comunque mi sembrava che ci stesse perfettamente. Quindi non credo ci sia niente di più lugubre di questo ammasso di teschi, questa croce e la morte. Però devo dire che non mi sono perso a curare più di tanto i dettagli. Sì, inizialmente cercavo di rendere al meglio i dettagli del disegno, però effettivamente ero più preso, soprattutto quando si fa un lavoro ripetitivo. Perché comunque, ok, disegnare un teschio può essere interessante, ma quando ne devi disegnare a decine, dopo un po' perdi interesse. Ti prendi le tue pause, eccetera, però comunque diventa un lavoro tedioso. Direi che tutti i lavori ripetitivi sono tediosi. Quando devi fare troppi elementi identici, come in questo caso i teschi, piuttosto che quando devi fare delle alie, devi fare piuma per piuma, le scaglie di un serpente. Insomma, quando devi fare troppi elementi simili, dopo un po' ti rompi un po' le scatole. Quindi, preso dalla frenesia, cercavo di avere un'idea del disegno il più velocemente possibile. Inizialmente volevo curarlo, ed è una cosa che ho fatto, soprattutto i primi teschi, la croce, che sono le prime cose che ho cominciato a dettagliare, sono più curate. Il resto del disegno non direi che l'ho tirato via, però cercavo appunto di arrivare alla conclusione il più velocemente possibile, soprattutto per i teschi, che appunto sono veramente tanti. Per quel che riguarda la morte non volevo fare il classico teschio e soprattutto non volevo fare le braccia di ossa, primo perché è troppo piccolo e quindi sarebbe andato insieme. Secondo perché non volevo fare una cosa troppo stereotipata per quanto, insomma, quando si fa la morte c'è poco da inventare, soprattutto se lo spazio è risicato. Questo qua doveva essere comunque, doveva sovrastare questa massa di teschi, quindi non c'era lo spazio per farla, che ne so, enorme, curare una serie di dettagli, essere... Ma non è che non ci fosse lo spazio per essere creativi, comunque vabbè, questa era l'impostazione. Ho cercato di fare la veste un po' sfilacciata, con molti dettagli, perché non volevo chiaramente fare una massa nera, perché già il braccio sarebbe stato molto scuro. Con questi teschi in primo piano, la morte è scura, il cielo che me lo immaginavo plumbeo, quindi sarebbe stato tutto molto molto scuro. Per cui avere la veste completamente nera e piatta non mi piaceva, per cui mi sono inventato questi sfilacciamenti, questi pezzi di stoffa che volano via. Per quel che riguarda il cielo, mi sono... insomma, mi sono... ora purtroppo c'è questo problema con la grafite, quando faccio le riprese c'è il riflesso della luce, quindi non è molto molto chiaro. Per quel che riguarda il cielo sono andato praticamente a istinto, non ho guardato niente, mi sono fidato del mio istinto, ho cominciato a stendere la matita e a immaginarmi appunto questo cielo pesantissimo. Per aiutarmi, anche perché con la matita avrei potuto usare il carboncino, ma per sporcare di meno ho deciso di usare dei copic e dei pennarelli e ho lavorato con quelli, quindi ho cominciato a settare l'atmosfera e qui arriviamo a quello che dicevo prima, cioè sono arrivato ad un certo punto in cui ero più preso dal creare l'atmosfera, dal trovare l'atmosfera del disegno, piuttosto che preoccuparmi dei dettagli. Quindi sono andato molto veloce senza curare troppi dettagli, volevo semplicemente settare tutti i contrasti, i neri e vedere che effetto avrebbe avuto quello che appunto avevo in mente. Insieme ai copic e ai pennarelli ho usato questa penna a pennello per fare i contorni, successivamente vedrai che farò tutti i contorni di questo disegno. Però appunto non l'ho curato più di tanto, non ci ho fatto una vera e propria illustrazione e per quel che mi serve poteva anche andare bene così. Però siccome io sono un perfezionista, una volta che ho trovato l'atmosfera giusta non mi bastava. Quindi cosa ho fatto? Ho preso un altro foglio, ho ricalcato il mio disegno, però curando attentamente i dettagli. Ho messo comunque le sfumature, tutto quello che serviva, però non l'ho appesantito di graffite, anche perché comunque la graffite per quanto si possa scurire, insomma bisogna insistere parecchio per scurire, soprattutto con le matite che uso io. Se usi una 6B già se ne può parlare, matite a carboncino ancora meglio. Però i fogli che uso io sono molto sottili, sono credo se non mi ricordo male, siano non più di 80-100 grammi metro. Quindi usare la graffite lì sopra significa bucare il foglio praticamente per ottenere un nero pieno. Molto meglio usare appunto la penna a pennello oppure i pennarelli per fare un effetto del genere. E io spesso mi aiuto col computer. Una volta che ho settato tutte le mie ombre per aumentare i contrasti, non faccio altro che ripulirlo, come sto facendo adesso, con una gomma elettrica, con un gommino elettrico, e dopodiché lo scannerizzo e magari moltiplico, aumento il contrasto, così risparmi un po' di tempo. E in fin dei conti non è un'illustrazione, non devo vendere questi disegni come illustrazioni. Servono più che altro a me per studiare il progetto, capire in che direzione andare, e dare chiaramente al cliente un'idea abbastanza concreta di quello che sarà il risultato finale sulla pelle. Quindi per quello poi mi avvalgo anche di Photoshop, appunto per aumentare i contrasti, per applicarlo su un modello 3D, di modo che lui possa vedere un effetto il più realistico possibile del risultato finale. Qua appunto sto facendo il lavoro che stavo dicendo prima, quindi aumento il contrasto, lavoro in Photoshop, ripulisco il disegno per arrivare al risultato finale che voglio ottenere. Fermo restando che il nero puro che si riesce ad ottenere in Photoshop o comunque in un'illustrazione digitale o anche su carta non sarà mai così potente sulla pelle, sulla pelle nero così puro, così potente non si otterrà mai. Però ovviamente serve a me per arrivare al risultato finale più vicino possibile appunto a quello che sarà su pelle. Qui sto usando la gomma in Photoshop per ripulire il disegno, perché poi chiaramente va considerato anche un po' lo sporco della graffite, mentre disegno un po' la tonalità del foglio che chiaramente non è bianco puro, come d'altronde non è bianco puro la pelle del cliente, e qui praticamente cosa faccio? Duplico il disegno, lo sovrappongo, qua sto ancora ripulendo, lo sovrappongo per avere un'idea e applicarlo appunto sul mio modello 3D, dove setto dei punti di riferimento per capire dove andrà il disegno, attenuando, abbassando l'opacità di modo che posso vedere, sovrappongo, pulisco in modo da avere il risultato più possibile vicino a realistico. Poi vabbè, ovviamente c'è sempre la linea di mezzo, riuscire a centrare la texture nella linea di mezzo dove si unisce la texture è sempre un po' un casino. E questo è il risultato, chiaramente cercando di lasciare abbastanza transizioni per quanto scure, di modo che non sembri una cover up, perché l'ultima cosa che voglio e chiunque vuole è avere un tatuaggio nuovo che sembra una cover up. E quindi niente, qui sto lavorando ancora sulla... Come vedi le nuvole sono abbastanza bozzate, però rendono l'idea. Poi ho lavorato un po' di contrasti, continuo a ripulire il disegno, a sovrapporre per vedere che tipo di intensità voglio ottenere nel risultato finale. Poi bisogna dire che da ex illustratore, oddio ex, alla fine faccio l'illustratore sulla pelle della gente, però fondamentalmente da ex illustratore c'ho sempre questa forma mentis che mi porta comunque a cercare di rifenire al meglio delle mie possibilità qualsiasi disegno. Però appunto qua siamo proprio alle fasi finali di questo disegno ed è quello il più vicino possibile a quello che volevo realizzare. Qua ho messo la firma, però appunto questo poi è il disegno che ho rifatto curando ogni minimo dettaglio più che altro per ottenere uno stencil. Ma poi non è finita lì, perché fondamentalmente dopo che il ragazzo ha visto il tatuaggio finito ha voluto proseguire sulla spalla per coprire un vecchio tatuaggio. Questo è il risultato finito, questa è la manica finita guarita da più di un mese con la cover up lì dove c'è il testio sulla spalla. E questo è quanto, spero che il video sia stato interessante. Ricordati di cliccare sulla campanella, iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ciao!